ciao io sono davide cristaldi lo chef del ristorante dei gusti bus di chieri abbiamo iniziato la nostra attività nel marzo del 2020 con insieme a me o la mia socia giulia sfortunatamente non è stato il periodo migliore per iniziare però fortunatamente ci siamo siamo qui la mia cucina si basa su tutta l'esperienza che ho avuto nel in questi anni e sono ormai 15 anni che lavoro in cucina allora abbiamo realizzato noi solitamente facciamo tutto in casa o quasi e oggi il nostro piatto è un raviolo al nero di seppia con un ripieno gorgonzola che poi andremo a saltare con del burro e verrà ci sarà una crema di di top in ambur e a fine piatto guarniremo il tutto con delle pere essiccate e delle chips di top in ambur metteremo sul fondo del piatto una crema di top in ambur i nostri ravioli alla fine andremo a chiudere con delle chips di top in ambur vi aspettiamo nel nostro ristorante grazie per l'abbiamo grazie per la vicenda